ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi vi propongo un video molto molto particolare perché perché oggi è martedì e cosa succede il martedì succede che esce un video del makeup angel quindi ovviamente dovevo farvi questo video e questo video è in collaborazione con fabiana e elisabetta quindi trovate i link dei loro canali giù nell'info box e quindi trovate il video di fabiana che su youtube e fabiana lizzi e di elisabetta che su youtube è betti82 io saluto tutte e due saluto le mie colleghe e quindi iniziamo a fare questo video come si chiama questo video lo amo perché sa come farmi arrossire o mio dio stiamo parlando dei blush sapete tutti che noi siamo maniache per quanto riguarda i blush e illuminante eccetera eccetera e quindi volevo farvi vedere i nostri cinque blush preferiti più un bonus che vedrete ovviamente alla fine a noi piace tantissimo blush e quindi perché non va a farvi vedere i nostri cinque preferiti allora iniziamo subito e inizierei proprio con il secondo forse blush che ho acquistato perché il primo che è qui dentro è quello della geste cosmetics che mi avete visto in qualsiasi video fatto perché è blush che mi piaceva di più in assoluto e quindi l'ho utilizzato veramente fino alla fine e faceva parte anche del progetto smattimento prodotti comunque iniziamo il primo blush che vi faccio vedere il blush che ho utilizzato tantissimo e che in sei mesi è stato l'unico che ho utilizzato poi ovviamente sono arrivati altri fratellini altre cose quindi un po l'ho accantonato sto parlando del blush della kiko io adoro questi tipi di blush questi sono quelli in edizione limitata e chi con esporna veramente uno più bello dell'altro e questo è il 101 crystal rose è molto molto utilizzato si vede tantissimo dalla cialda che è molto utilizzato ed è questo qua a me piace tanto perché io non lo utilizzo tramite gli spicchi che vedete qua ma lo utilizzo proprio mescolando tutto e mi fa anche quel po di bronzer che serve per quanto riguarda per quanto riguarda il viso è un colore che mi piace tantissimo l'ho utilizzato veramente tanto ed è questo colore qui e da un colorito tipo sul biscotto ma che con determinati look mi piace tantissimo perché dico con determinati look perché io in base al make up make up che faccio in automatico metto il blush scelgo il mio blush qui nella mia postazione e lo faccio sempre tramite il trucco che faccio negli occhi se faccio un trucco tipo sul rosa malva come adesso io metto un blush sul malva e quindi questa è la mia tipologia di tecnica per quanto riguarda il blush voi ditemi giù nei commenti cosa come fate a utilizzare il blush nel senso che come che prospettiva utilizzate in base agli occhi in base al viso che c'è in base al make up occhi che fate oppure andate tipo con l'abbinamento sulle labbra come ha detto giulia cova scrivetemi un commentino perché sono molto curiosa di sapere come abbinate voi blush un altro sempre nella gradazione per quanto riguarda gli acquisti è questo ed è il down boy questo assieme al fratellino fra voi sono i miei preferiti per quanto riguarda la the balm mi piacciono tantissimo perché oltre il packaging in cartone che è super il prodotto è molto 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 buono perché è molto pigmentato veramente molto pigmentato questo mi piace di più utilizzarlo in estate perché mi dà quel colorito che a me piace tanto non ha sbrilluccicosi niente non assolutamente niente è un color rosa che da che va sul malva a me piace molto ovviamente il blush messo così lo vedete in una minima parte perché blush sulle guance poi ha un'altra diciamo performance quindi lo vedete così questo è il colore questo qui ed è un rosa baby che a me piace tantissimo specialmente in estate un altro blush che ho acquistato questo l'ho acquistato perché mi piaceva tantissimo e avevo quasi finito il just cosmetics che avevo preso quello color malva e quindi ne volevo uno per sostituirlo ma avevo cannato il colore perché avevo preso quello più viola ma poi ovviamente ho fatto di nuovo l'ordine e l'ho preso sto parlando di questi qui della nyx delle ombre blush mi piacciono tantissimo questa tipologia di blush e ovviamente questo come si potrebbe chiamare move mi c'è questo blush si chiama move mi ovviamente perché un blush color malva tutti i miei blush sono super giù color malva ed è questo colore tutti i blush che vi ho fatto vedere hanno tutti uno specchio che piccolo che grande ovviamente e questo è un degradè con il colore più scuro fino arrivare diciamo all'illuminante io non l'utilizzo mai con diciamo con questo illuminante non utilizzo miscelato tutta la cialda ed è bellissima veramente molto molto bella e mi dà quella sensazione di malva malva biscotto che a me piace tantissimo ed è questo colore qua vedete questo la pigmentazione è ottima e mi piace proprio il fatto che si può anche stratificare perché faccio vedere i pennelli che io utilizzo per quanto riguarda il blush che sono il mio preferito in assoluto mi è caduta la spugnetta il mio preferito che questo della real techniques e quella forma di tulipano a me piace tantissimo io ho messo questa ho messo ho messo questo questo nastro perché questa parte è diventata appiccicosa e quindi ho dovuto diciamo mettere il cerottino perché si è fatta la bua e questo è il blush brush della real techniques mi piace tantissimo mi piace proprio come stende il prodotto specialmente se molto pigmentato questo ti fa ti dà una facile applicazione invece quello che ho utilizzato oggi è questo qui della wet and wild ed è il p60 ed è bellissimo perché ha la stessa forma però un po più bassa diciamo di quello della real techniques e mi piace tantissimo che l'ho utilizzato oggi perché mi dà la possibilità di sfumare il blush e di darmi una coprenza che a me piace perché questo blush è molto pigmentato e quindi mi dà questa coprenza lieve ma bella pacioccone e mi strapiace questi sono i due blush che i due pennelli per i blush che utilizzo perché sono quelli che veramente utilizzo sempre perché mi piace ovviamente la stesura un altro blush che è arrivato a casa mia è il mermaid cheese della wicon questo è bellissimo io quando l'ho visto sono mi sbaglio l'ho visto su ornitorella non mi vorrei sbagliare o lei o su gio gio 91 perché piace la stessa tipologia di blush ed è il naked ed è bellissimo anche questo ha lo specchietto ed è bellissimo questo è un color biscotto che all'interno il malva perché sapete tutti che deve tenere all'interno un malva è bellissimo molto molto bello ed ha sempre quel colorito tipo effetto biscotto non so come spiegarvelo che a me sulle guance piace tantissimo questa tipologia di blush questo è che ovviamente con le luci si vede malissimo capito però è stupendo è un malva stupendo io questa tipologia di blush la utilizzo in base al makeup che faccio quindi se io utilizzo tipo questa palettina che ho utilizzato l'altra volta per il compagno di mio figlio ho utilizzato questa qui di patrick star con questi colori io ovviamente gli abbino questo questa tipologia di blush perché come abbinamento mi piace tantissimo e quindi in base diciamo come mi trucco utilizzo il blush l'ultimo arrivato in casa mia è questo qui della chicco ovviamente della sicilia notes io adoro questo blush è veramente mi è piaciuto tantissimo ovviamente come si chiamerà mai 03 panarea move ovvio che se era un malvano anche questo specchietto anche questa la cialdina abbastanza cicciottella ed è molto molto bella che dirvi mi piace tantissimo questo è molto più ha un po più rosso all'interno infatti molto molto pigmentate questo lo utilizzo con il pennello della real techniques perché molto molto pigmentato e adoro proprio questo tipo di colore mi stra piace tantissimo ed è questo questo qua veramente sono dei colori molto molto belli come pigmentazione ci siamo non sono molto pigmentate alla prima passata ma mi piace il fatto di poterli stratificare e di sistemarli come voglio nel nel tratto diciamo della postazione del blush e mi facilita molto diciamo l'applicazione perché se io ad esempio devo mettere un blush al primo tocco divento tipo haidi un pochettino vado tipo con i piedi di piombo tocco leggermente il prodotto e lo utilizzo faccio sempre un tocco e via proprio per vedere se è molto pigmentato quindi ho paura che mi viene veramente live che mi viene tipo guaggiotte di haidi sul viso l'ultimo che vi faccio vedere che non è per importanza l'ultimo ma è quello che io ho acquistato di più di questa marca di questo brand perché sapete tutti che io adoro il brand della mac infatti ho tantissimi rossetti e ovviamente non poteva non esserci un blush per quanto riguarda la mac questi sono quattro ma io ne ho cinque l'altro l'ho messo da un altro da un'altra parte questi sono i miei blush preferiti per quanto riguarda il mio jolly per quanto riguarda i blush perché sono i miei preferiti in assoluto per quanto riguarda la pigmentazione per quanto riguarda l'applicazione sul viso sono sfumabili veramente un tocco e via è il mio preferito per quanto riguarda i quattro ovviamente è fever che è questo qui vi dico i nomi questo è fever questo desert rose poi abbiamo un brit of plum e poi abbiamo mocha o mocha ma il mio preferito è questo dito pulito questo è il mio blush preferito ed è bellissimo veramente bellissimo e ve lo metto qua non ve lo sfumo tanto perché poi se non si riesce a vedere fino alla fine ed è questo ed è un bellissimo colore veramente molto molto bello da utilizzare in questo periodo ma gli ombretti ma i blush della mac sono fantastici sempre perché hanno una pigmentazione fantastica io ho preso il refill perché li volevo mettere in delle palettine del genere quindi mi seccava il packaging e tutto di alcuni li tengo perché tipo questi qua del kiko e altri sono in edizione limitata questo essendo il packaging normalissimo se non mi sbaglio ce n'ho un altro per quanto riguarda la mac giusto o sbaglio si magari lo vedo ve lo faccio vedere ecco tipo il packaging è così semplice di solito quindi è inutile utilizzare il packaging con si invece mi piace di più il refill perché posso farmi la palettina adesso vi faccio vedere tutti i colori per quanto riguarda e blush e sono questi sono uno più bello dell'altro dal primo all'ultimo mi piacciono tutti veramente tutti 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 sono bellissimi veramente molto molto belli allora per quanto riguarda il video io ho finito spero ovviamente che vi siano piaciuti i miei blush ovviamente scrivetemi un commentino qua sotto come fate voi a applicare il blush nel senso che come lo abbinate l'abbinate agli occhi o alle labbra scrivetemi un commentino e ditemi anche se avete gli stessi tipologia di blush tipo ad esempio questo oppure quello della kiko oppure quello della quella della debalm oppure se collezionate i blush della kiko per quanto riguarda l'edizione limitata perché sono fantastici comunque scrivetemi un commentino perché non vedo l'ora di leggere tutti i commenti che mettete giù io ovviamente vi ringrazio come sempre e ringrazio anche le mie amiche per quanto riguarda il video in collaborazione quindi ringrazio tantissimo le makeup angel quindi ringrazio sia fabiana che elisabetta io vi mando un grossissimo bacio ma prima di lasciarvi vorrei avvicinarmi e dirvi una frase cioè vi vorrei lasciare con una frase che è questa se non ha mai visto una donna arrossire ti sei perso uno dei colori più belli del mondo con questa frase io vi saluto vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao